ciao ragazzi allora allora ero qui che stava lucidando questa questo giochino per gli amanti del per gli amanti delle sciabole no adesso c'è questa moda no della sciabalatura vedo tra un sacco di video che sciabolano sciabono e vedo un sacco di bottiglie che si spaccano tra l'altro con delle manovre ma anche fatti da professionista e fatte veramente male allora fermo restando che questa era una cosa che facevano i soldati di napoleone ma chiaramente avevano delle spade con un diverso erano spade sciabole vere con un peso diverso e soprattutto con una lama vi faccio vedere con una lama vera una lama che tagliava anche le ossa con un colpo solo qui non stiamo parlando di questo oggigiorno le sciabole non sono quelle di napoleone quindi siete molto vedo molti che sono gasati su questa cosa no però se proprio dovete allora fermo restando che c'è un tappo fermo restando che c'è un tappo da utilizzare no però se proprio dovete sciabolare almeno usate la giusta tecnica vi faccio un esempio allora dice almeno usate la giusta tecnica allora innanzitutto se proprio dovete sciabolare cosa dovete fare allora togliete questa parte qua togliete tutta la capsula tutta il la copertura della capsula e poi fatevi anche un po furbi allentate la gabbietta oppure la togliete completamente il tappo non scappa o sennò la allentate vi faccio vedere perché sta cosa vedo che ha preso molti di voi la allentate in modo che rimanga libera ok bene ma da sé che dopo è sufficiente la bottiglia deve essere ben fredda dovete semplicemente fare scivolare in questo modo e si taglia perfettamente nel momento in cui chiaramente si sfrutta la pressione nel momento in cui si rompe questa parte del vetro tirata appena appena su non devo uscire una goccia di vino se no la il colpo di sciabola è sbagliato quindi avete sbagliato qualcosa quindi con questa tipologia vedete che queste non hanno lama dovete per forza togliere tutto e diversamente e poi togliere anche questa parte qua lasciare solo il tappo oppure la gabbietta allentata ma allentata molto perché non avete le sciabole di napoleone che quelle tagliavano le ossa con un colpo queste non sono fatte per tagliare per tagliare le ossa sono più uno show quindi fermo restando che c'è una bottiglia avete due mani avete un tappo ed è sufficiente fare questo ma se proprio dovete sciabolare ragazzi almeno fate un po di attenzione ok togliete tutto fate il movimento e sciabolate e state sereni